Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Aspetta qui Come se avessi scelta Perché mi aiuti Ezio? Por lì è perduta non posso essere più Hai una famiglia Non è la tua però Quella notte alla villa Ho dovuto risaldare la nostra alleanza per proteggere Lo capisci vero Ezio? È la politica Naturalmente Lo sapevo Non devi aggiungere altro Caterina Ti hanno Insomma Cesare ti ha Non ti permettere Sono criminale qui? Figlio di puttana Non osare farlo mai più Pare si possa aprire da laggiù Un momento prego Un momento Grazie a tutti. Grazie a tutti.